Una candidatura di coscienza così il sindaco di Barletta Pasquale Cascella ha commentato la propria scelta di mettersi in gioco come presidente della provincia di Barletta Andiatrani contro Francesco Spina. I numeri sono dalla parte del primo cittadino di Biceglie che con l'accordo con il centro-destra si è garantito la possibilità di andare abbondantemente oltre il 50% delle preferenze. Ma la lista civica provincia popolare schieratasi senza l'indicazione del presidente la possibilità del voto di giunto potrebbe rimettere in corsa Cascella. Sono elezioni di secondo grado, si vota mettendo assieme i consiglieri delle singole amministrazioni. Noi abbiamo nel nostro territorio 10 comuni, 5 amministrati dal centro-destra, 4 dal centro-sinistra, poi c'era il comune di Biceglie che aveva rotto con il centro-destra, adesso è stato riscoperto e ritrovato dal centro-destra, quindi i rapporti di forza sono cambiati, sono 6 comuni contro 4, poi c'è anche il fatto che un comune ha una proponderanza nel voto ponderato rispetto a tutti quanti gli altri, è un comune di centro-destra, quindi sulla carta è una battaglia persa, però come dicevo ci sono delle battaglie che vanno combattute, è quella per la prospettiva del nostro territorio, io non so quando durerà la provincia e che cosa ci sarà dopo la provincia, se ci sarà l'area vasta, se ci sarà un'unione comune, so che ci deve essere qualcosa, so che ci deve essere qualcosa che valorizzi questo territorio, le sue energie, le sue risorse, le sue capacità, so che non può essere una provincietta come qualcuno l'ha definito. Le idee chiare sul programma e su quello che bisognerà fare per amministrare il nuovo ente di secondo grado, idee che Cascella dovrà raccontare ed illustrare ai consiglieri comunali, gli unici a partecipare al voto, ma non solo del suo schieramento se vorrà rientrare in partita per la carica di presidente. Bisogna avere qualche ambizione, allora quello che potrò dire a tutti i consiglieri, ai consiglieri delle liste civiche, per cominciare, che non si sono schierati ed è importante questo, alcuni dei quali appartengono anche alla mia amministrazione a Barletta, a quei consiglieri delle liste civiche e anche ai consiglieri del centro-destra di riflettere se bisogna chiudersi in una logica di schieramento, sapendo che poi comunque bisognerà amministrare questo territorio oppure avere l'ambizione di coltivare un disegno più ampio.